Giovanni Falcone, i suoi nemici non erano solo mafiosi. Allora, non solo mafiosi come nemici per Giovanni Falcone, ne aveva anticipato qualcosa l'avvocato fratellone prima, Lombardo, la figura di Giovanni Falcone, un giudice che forse proprio il fatto di non essersi mai legato, lo ha fatto solo per un breve periodo con formazioni politiche o cose, lo ha reso un po' come dire, non un cane sciolto, però un personaggio indipendente e quindi non controllabile, questo gli è costato secondo lei? Può anche essere che sia stata una delle motivazioni per le quali è stato versato nel portare avanti la sua opera, opera che ovviamente era meritoria negli interessi dello Stato e che però toccava degli interessi che erano importanti per alcuni soggetti che operavano nelle illegalità. Io però comunque vorrei puntualizzare il fatto che molte delle intuizioni portate avanti da Giovanni Falcone quando era in vita poi si sono realizzate nel corso degli anni sotto il profilo normativo. Ovvio che la legislazione attuale non è una legislazione completa, ad esempio dobbiamo cercare di risolvere il problema dell'impasse relativamente all'agenzia dei beni confiscati che attualmente non è completamente operativa e non ha le risorse necessarie per poter operare. Ci sono tantissimi beni che sono già stati confiscati con pronuncia passata in giudicato, ma che sono ancora in carico all'agenzia e non vengono poi destinati alle amministrazioni. Però molti passi avanti sono stati fatti sotto il profilo della normazione del 416 bis, 416 terra, sotto il profilo del… Vediamo ai telespettatori, 416 bis… Il 416 è reato per associazioni di stampo mafioso, il 416 terra è lo scambio politico elettorale mafioso in maniera proprio… Il mercato di… Il mercato di… E pensiamo all'interdittivo antimafia che sono uno strumento che può essere utilizzato dai prefetti. Se pensiamo in Veneto, il prefetto di Treviso nel corso degli ultimi mesi ha emesso 5 interdittivi antimafia per aziende in odore di camorra, stiamo parlando di Treviso, mentre il prefetto di… il neoperfetto di Verona, a circa un anno, un anno e mezzo di distanza dal suo insediamento ha emesso numerose interdittive antimafia per aziende del veronese in odore di andrangheta, interdittive che sono state confermate dal TAR e dal Consiglio di Stato. Abbiamo poi le misure di prevenzione sia personale che patrimoniale, che sono delle attività, delle pronunce che vengono messe dai tribunali di sorveglianza e di prevenzione anche qua in Veneto e che vanno a colpire quei soggetti che vengono ritenuti pericolosi perché in contiguità con le associazioni criminali o vanno a colpire i patrimoni di questi soggetti. Mi permetto di interromperti perché il meccanismo delle misure di prevenzione è quanto di più inquietante esiste dal punto di vista giuridico, è basato su un'opinione, per uno che non è ancora stato fatto in processo, pare che ci sia il pericolo, intanto li sequestro tutto, li porto via tutto, poi faremo processo e magari l'assolvono. Inquietante, però ne parliamo in un'altra, una serata la dedichiamo a questa se volete. Falcone di fronte a determinati testimoni che non lo convincevano con dati reali, non era un convincimento così di intuizione, dovevano portati i dati reali, è arrivato al punto di arrestarli perché o era una cosa o non era. Olti pentiti lui li ha arrestati. Esatto, quindi questo dà la misura che Falcone non esagerava. Lui doveva, quando è arrivato al maxiprocesso, aveva raccolto una tale quantità di dati reali che i giudici si sono trovati di fronte all'ovvio, a una situazione talmente palese che hanno dovuto prendere le decisioni che hanno preso saggiamente e siamo arrivati in Cassazione con un maxiprocesso e la Cassazione ha riconfermato, anche se nella fase di appello era stato derubricato tutta una serie di cose, invece in Cassazione è stato ripreso la prima sentenza e poi resa definitiva. Quando è che viene ucciso Falcone? Falcone viene ucciso quando la mafia prende paura e prende coscienza che Falcone può incidere anche sulla normativa, perché fino a che ha fatto il giudice a Palermo arrestare, però era lì. Quando invece è andato a Roma hanno cominciato a avere paura che lui potesse influenzare il potere politico. Ed è lì che l'hanno detto, questo qui va a fine che ci mette il bastone tra le ruote e poi sono andati dopo i 416, tutte le normative antimafia sviluppate dopo. Però se lui non andava a Roma, lo Stato contro lo Stato, diciamoci la verità, è un dato di fatto che era una cosa comunque circoscritta. Io sinceramente non lo so se sarebbero riusciti a arrivare, chiedo scusa per l'italiano, ad ammazzarlo sul posto. Lo hanno ammazzato, lo hanno ammazzato sicuramente, ma lo hanno ammazzato nel momento in cui, è come una cosa eclatante, nel momento in cui lui poteva veramente incidere sulla normativa che andava a incidere sui beni e sugli affari della mafia. E' accessione, qui se noi facciamo un'affermazione di questo genere, perdiamo di filo di chi è il mandante. Allora chi ha paura non è Totò Riina, che mi pare che di paura non è mai dimostrato. No, è già, è un esecutore, è un killer, ha tutti i suoi interessi, ha una sua logica, ha una sua struttura militare, ma non ha paura di Falcone. No, paura di Falcone è chi sta a Roma. Perché Falcone stava indagando sulla questione, era in contatto con Milano, quindi era già incominciato Mani Pulite e lui ha delle perplessità su Mani Pulite, ma sta indagando su Gladio e su Gladio ricordo un fatto abbastanza increscioso, Peteano, qui in Friuli, la grande frase di Peteano, fatta circa 10 anni prima, ma peggio ancora in Trentino Alto Adige, dove Gladio aveva agito più volte e Gladio è una formazione deviata, parallela che doveva fronteggiare un pericolo eventualmente di una rivoluzione di sinistra che poteva nascere dopo il conflitto, eccetera. Quindi era stata suggerita e appoggiata dagli americani ed è motivo per cui un Presidente della Repubblica si dimette poi. Ramallo voleva aggiungere qualcosa? Volevo un attimo completare. Ovviamente è necessità che ci sia una massima chiarezza, verità e giustizia per quello che ha riguardato le stragi di mafia capaci da meglio, vede a meglio. Quello che volevo concludere, un concetto sulla magistratura. Noi se pensiamo che ci sono magistrati attualmente e nel corso degli anni che hanno applicato la legge in modo rigoroso con il stessi parametro di rigorosità che portava avanti Falcone e Borsellino nella propria opera. Ci sono più di 120 procedimenti giudiziali che sono stati portati avanti nel centro e nord d'Italia negli ultimi dieci anni, quindi la magistratura ha aperto gli occhi anche sulla presenza delle mafie in centro e nord Italia. Qui in Veneto abbiamo un procedimento che ha riguardato il cosiddetto gruppo Aspide che è stato condannato per associazione di stampo mafioso a Padova e che è arrivato a sentenza di condanna confermata dalla Corte di Cassazione. Abbiamo avuto dei magistrati a Padova che hanno lavorato e hanno applicato la stessa mafia del Brenta, è la prima ipotesi di applicazione del 416 bis a un'associazione criminale presente in regioni non a tradizionale presenza mafiosa. E concludo, volevo dire che qua in Veneto abbiamo le mafie, quindi c'è Cosa Nostra, soprattutto l'Andrangheta, la Camorra. Quindi quando parliamo di mafia in realtà si dovrebbe parlare di mafie. Certo, quello che ci racconta non è tranquillizzante comunque, diciamolo, è una presenza abbastanza radicata. Ma io volevo proporvi questo intervento che ha fatto nella serata della commemorazione l'attore Zingaretti, quello che interpreta il commissario Montalbano, che ha proprio appunto ha raccontato un po' quelli che erano, diciamo, chi ostacolava, chi vessava. Falcone, sentiamolo. E percorrendo le vicende della sua vita personale ci accorgiamo che la magistratura, che forse ha più colpe di ogni altro, cominciò a farlo morire proprio il primo gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, aspirava a succedere ad Antonino Caponnetto alla guida dell'ufficio di istruzione di Palermo. Si aprì la corsa, Falcone concorse, qualche giuda si impegnò subito a prenderlo in giro e il giorno del mio compleanno il consiglio superiore della magistratura con motivazioni irrisibili ci fece questo regalo. Gli preferì Antonino Meli. Giovanni dimostrò altissimo senso delle istituzioni e la volontà di continuare comunque a fare il lavoro che aveva inventato e nel quale ci aveva tutti trascinato. Cominciò a lavorare con Antonino Meli nella convinzione che nonostante lo schiaffo datogli dal consiglio superiore della magistratura avrebbe potuto continuare. E continuò a crederlo nonostante se io mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. Almeno mi dissi se il pool deve essere eliminato, l'opinione pubblica lo deve sapere e lo deve conoscere, il pool antimafia deve morire davanti a tutti, non deve morire in silenzio. E allora l'opinione pubblica fece il miracolo perché in quella caldissima estate del 1988 l'opinione pubblica si mobilitò e il pool antimafia seppur zoppicante fu rimesso in piedi. Perché nonostante quello che è successo in Sicilia la corte di Cassazione continua sostanzialmente ad affermare che la mafia non esiste. Continuarono a far morire Giovanni e Giovanni continuò incessantemente a lavorare. Solo a un certo punto Falcone si convinse di non poter continuare ad operare al meglio a Palermo e andò a Roma, al Ministero di Grazia e Giustizia, non perché aspirasse a un posto privilegiato, non perché si era innamorato dei socialisti, ma perché a un certo punto della sua vita ritenne da uomo delle istituzioni di poter continuare a svolgere a Roma un ruolo importante e decisivo nella lotta alla criminalità mafiosa. Giovanni Falcone è andato lì solo per questo, con la mente a Palermo perché sin da quel primo momento mi illustrò quello che poteva, quello che riteneva di potere e di volere fare, lui per Palermo. Cercò di ricreare in campo nazionale e con legge dello Stato quelle esperienze del pool antimafia che erano nate artigianalmente, senza che la legge le prevedesse e senza che la legge anche nei momenti di maggior successo le sostenesse. Questa nei suoi intenti era la superprocura e l'organizzazione mafiosa quando ha preparato e attuato l'attentato del 23 maggio, l'ha preparato ed attuato proprio nel momento in cui si erano concretizzate tutte le condizioni. Perché Giovanni Falcone nonostante la violenta opposizione del Consiglio Superiore della Magistratura era ormai a un passo da diventare procuratore nazionale antimafia. Lottardo, allora cosa dici? Io sono impressionato, sono sempre rimasto impressionato perché la nostra vita politica, la nostra democrazia è come la luna, c'è sempre una faccia oscura. i romani parlavano arcana imperi, sono delle cose del potere che rimanono, la scorta. Io sono stato impressionato prima quando avevi fatto vedere, friallato, l'intervento della sorella di Borsellino davanti a Grasso. Grasso è la seconda autorità dello Stato, il Presidente a Palermo, già procuratore generale dell'antimafia e non riesce a rispondere alla ricerca di verità. Questo voglio dire. L'ha fatto a vedere apposta, ma soprattutto se uno non sa guidare una macchina di Formula 1, deve farlo spettatore e lasciare che un altro lo faccia. Sì, però alla celebrazione c'era presente anche Mattarella, Presidente della Repubblica, siciliano, fratello di un assassinato della mafia. Che voleva cambiare le cose. E la verità vera, fino in fondo, non viene fuori. Perché non viene fuori. Prima, cosa non nuova in Italia, ancora non si sa, dopo quattro grandissimi processi, come è andata veramente la storia del delitto Moro. Quattro processi. Ancora non è chiaro. Io ho avuto anche rapporti diretti con alcuni, ahimè, protagonisti della strage di Bologna. Vengono poi condannati alcuni fascisti, dei NAR, che dicono loro, non c'erano niente, molti sono convinti ai massimi livelli che non c'erano niente, solamente che li hanno condannati, parlo della Mambro per esempio, e dicono ma io non c'entro, io non ero lì. E' approvata. Cosa che succede? La condannano. Ma scusate, peraltro la Mambro accetta tutti gli altri reati che ha fatto. Sì, ne racconta anche di più che non erano niente. Però dice quello no. Aspetta un attimo. La condannano, nel senso, così chiudono la baracca. Cosa succede dopo un anno? Che viene condannata la pena e la lasciano libera. Capo spiattato. Cioè, l'arcana imperi, i limiti della politica, della democrazia, sta a essere questa seconda faccia. Io ero presidente in Parlamento, quando scoppiò la bomba di Capace. ero in seduta permanente plenaria con il Senato per eleggere il Presidente della Repubblica. Eravamo lì lì per eleggere Anderotti, io ero molto amico di Anderotti, sono rimasto amico finché è morto, poveretto. E a un certo punto vedo un pallidire, si alza dallo scarno e esce. Non sapevo ancora cosa fosse successo. Io non lo sapevo, la maggior parte dei parlamentari era successa la bomba. Era pallido. E poi dico, Presidente, dove vai? Dice, lassimi, lassimi. Non mi fermare, devo andare al mio ufficio. E si è ritirato, pallido come uno straccio. e evidentemente anche questa morte viene in un contesto di cambio e viene eletto in due sedute e viene eletto Scalzo. L'affaro? In due sedute. Mi pare su proposta dei radicali poi, improvvisamente. Panella. Panella, Panella, Panella. Panella, Panella allora lavorava per conto degli americani, simpaticone dei pannelli. Sempre. Allora, cioè, toccavi con mano l'Arcana Imperi e le verità non svelate. E Dottaro, sono stati due o tre mesi particolarmente intensi dall'omicidio di Salvo Lima, ci sono state le elezioni in aprile e poi a fine aprile le dimissioni di Cossiga. Allora, se noi guardiamo la storia italiana, questo è dopo guerra, questa qui ce la possiamo ricordare, noi sono stati anche testimoni, noi giovani, ce la possiamo ricordare. Quindi c'è un limite vero di cosa sta succedendo su Salvo. E noi dobbiamo sempre interrogarci su questo perché finché noi non facciamo chiarezza fino in fondo, la democrazia è sempre a pericolo. È proprio l'essenza della vita democratica è a pericolo. Perché è a pericolo? Perché in genera poi nel popolo sovrano la sfiducia, per cui la pura intera democrazia, non serve a niente. Non mi dà la verità, quindi non serve, non vado a votare, nascono i populismi. Questo sono io preoccupato, avendo avuto, sia pure non da protagonista, ma Germania, per giovane deputato all'epoca, ma capivo che succedevano qualche cosa di complesso. Quindi che non era limitabile così secondo uno schema molto semplice, ma che la guerra di potere che era in alto era una guerra che aveva molti protagonisti, pochissimi paresi, moltissimi occulti e questi molti protagonisti ancora adesso non vengono fuori. Io spero che però, siccome gli archivi parlano, magari dopo 50 anni, dopo un secolo, le carte vengono sempre fuori. È come nella storia degli spionaggi, perché ogni spia ha sempre un'altra spia che lo controlla, quindi poi le carte vengono fuori. Spero che la storia faccia chiara, faccia chiarezza, perché altrimenti se non si fa chiarezza fino in fondo, guardate, la mafia è forte, ma non perché quella dell'epoca di Falcone non sia stata battuta, quella io ritengo è stata battuta col metodo Falcone-Bossolino, ma la mafia è un virus. E come tutti i virus, i virus sono mutanti. Quando hai trovato la medicina, quando questo virus cambia, quella medicina lì cambia. È come quando prendi gli antibiotici e le prendi tra l'altro, e tu rimani ammalato ancora perché il virus si avvisua, imbara. Quindi è il tipo di capacità di comprendere che è un virus mutante, che oggi si presenta in altre forme, giovanotto qui complimenti che ti impegni bene. Facceva presente l'aspetto economico, l'aspetto finanziario, ancora più occulto, ancora meno rintracciabile. Quindi è una battaglia questa dell'antimafia, è bene ricordare Borsino etc. Io sono d'accordo che mi sento più sicuro adesso rispetto alla mafia che all'epoca di 25 anni fa. Ma non sono convinto se il virus cambiato ancora può essere combattuto con quei metodi lì, oppure dobbiamo trovare metodi totalmente diversi, la grande finanza. Se ci aspettiamo il botto probabilmente non è più l'epoca. Mi pare che due banche popolari siano saltate con circa 30 miliardi. Certo, certo. Hanno fatto più morti del tritono. Sì, hanno fatto più morti del tritono, per cui noi cerchiamo di capire se oggi la guerra è quella della prima guerra mondiale che abbiamo visto prima, non è più quella, però almeno in questa fase. E quindi dobbiamo aspettarci che le situazioni si presentino da altre parti. Attenzione, tutta questa cosa qui è opera di disinformazione. E i primi di tutti responsabili sono i giornalisti e mi considero, siccome sono giornalista, che noi non riusciamo mai a fare compiutamente il nostro dovere di informazione. Perché se riusciamo a informare, riusciamo anche a creare quella democrazia che è necessaria e supportare anche quei partiti che per altri motivi sono deviati. Allora, quello che è importante è che se ne parli, ma soprattutto che i giornalisti siano preparati, perché ci troviamo, giustamente come diceva Gottardo, di fronte a la seconda figura dello Stato che di fronte a delle domande non riesce a dare delle risposte, questo è gravissimo, dice avremmo bisogno, questo era procuratore nazionale antimafia, che peraltro sostituiva quello che naturalmente doveva essere, che è stato, a causa del governo Berlusconi, è stato marginato. Io vorrei concludere, metto sulle parole che sono state pronunciate dall'editore il grassetto, il corsivo e la doppia sottolineatura, aderisco sul punto. Volevo dire che alla fine fra le cose che secondo me dobbiamo ricordare, perché c'è un obbligo della memoria anche su alcune grandi lezioni, cioè che lui si era formato un'esperienza sul campo, l'aveva perfezionata sicuramente in America e il suo grande pericolo a livello politico era che potesse legiferare applicando quel sistema. Questo è stato visto come un pericolo ed è forse il motivo vero per cui l'hanno fatto saltare. Tra le cose che lui diceva c'era in tema di garantismo, prima ho citato la sua idea sulla obbligatorietà dell'azione penale, oppure sulla necessità di controllare gli uffici giudiziari, di avere magistrati e investigatori più preparati, c'è la necessità di operare un reale garantismo. Lui sosteneva che perseguire una persona per un delitto, senza avere degli elementi irrefutabili, questa era una delle sue parole, a sostegno della sua colpevolezza, significa regolare, rendere un pessimo servizio alla giustizia. Il che va proprio contro alcune parole che sono state citate prima, che è meglio un innocente in carcere piuttosto che un delinquente fuori. Sono due culture che si muovono l'una contro l'altra ed è per questo che lui diceva uno sostanzialmente dei miei nemici è lo Stato, però non abbiamo che lo strumento del diritto per contrastare questo meccanismo. Cioè non può essere che il concetto che il fine sia il maggiore elemento che può farci superare qualsiasi ostacolo, dobbiamo avere il diritto che spazza via questi. Sentiamo anche, prima di far intervenire Marotta, sentiamo anche cosa ha detto Saviano nella sera della ricorrenza. La situazione di forma, dobbiamo ricordare i meccanismi che scritolavano Falcone e chiunque si occupasse di organizzazioni mafiose, da destra a sinistra, fu delegittimato in ogni modo. Venne bollato come una superstar, la copertina di rotocalico, venne definito super magistrato, super scortato, più manager che magistrato, vanitoso come un guitto televisivo, venne accusato di tirare la cordata ai comunisti, poi di essere socialista, poi di proteggere la democrazia cristiana, gli fu detto tutto e il contrario di tutto. Uno dei principali motori di questa ostilità, continua tra l'altro, verso Falcone, è stato il meno citato in questi anni ed è il più abietto dei sentimenti. invidia. E non sembra un'esagerazione, non è una mia considerazione, perché la parola invidia è stata messa nero su bianco in una sentenza della Corte di Cassazione nell'ambito del processo per l'attentato dell'Addaura. Non vi è alcun dubbio che Giovanni Falcone fu oggetto di torbidi giochi di potere, di strumentalizzazioni e opera della partitocrazia, di meschini sentimenti di invidia e gelosia anche all'interno delle stesse istituzioni. Questo è stato scritto dodici anni dopo la strage di Capaci. Ma come si poteva invidiare un uomo con una vita così terribile, blindata, che era un obiettivo così esposto? Si poteva e come? Non riuscendo a eguagliare il suo rigore, il suo talento, il suo genio, si arrivava a detestarlo e a cercare di ostacolarlo. E soprattutto risultava insopportabile a una parte importante della politica, del giornalismo e della magistratura che lui avesse l'ambizione di raggiungere vertici, ruoli di vertice per trasformare la realtà. Più semplice quindi farlo passare per un ambizioso, affamato di potere, di pubblicità, che cercare invece di stargli a fianco nella sua battaglia. Più facile era delegittimarlo. Ma anche nei momenti più duri, e questo è stato incredibile, non so come si è riuscito Giovanni Falcone a farlo, non ha mai rinunciato all'unica arma in cui ha sempre creduto, il diritto, senza scorciatori. Solo il diritto era garanzia. Solo attraverso quello si sarebbe evitato di ledere i diritti di tutti. Allora, Professor Casio, vediamo che scuoteva la testa. Si potrebbe salvare se Falcone... Allora, abbiamo proprio oggi il G7 in Sicilia, e abbiamo visto che sono finiti gli sbarchi, è finito tutto, è tutto sotto controllo. Forse Falcone era meno importante di quelli del G7? Ecco, io lascerei questa interrogazione ai nostri telespettatori. Certo, vorrei far concludere anche a Marotta. Ma voglio intervenire, qualsiasi rappresentante di Italia dei Valori, per ricordare un episodio sicuramente minore rispetto alla vita e all'esempio di Falcone, che è successo al nostro Antonio Di Pietro nel 2012, quando si cominciò a parlare dei rapporti Stato-mafia, e ci furono le accuse pesanti anche, e anche abbastanza circostanziate, che fece ad esempio Antonio Di Pietro nei confronti del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, Mancino, Napolitano, eccetera, eccetera. Anche in quel caso lì bisogna dare atto. Venne preso e messo da parte, perché dava fastidio, perché si ragionava di cose di cui non bisognava ragionare. Perché se adesso viene detto che effettivamente, mi sembra che sia stato nel servizio detto, o qualcuno dei nostri amici ospiti lo ha detto, che è stato riconosciuto che c'è stato comunque un momento storico in cui lo Stato ha cercato un abbocamento con la mafia per evitare che ci fossero continue stragi, perché con l'affievolimento del 41 bis, che è appunto il carcere di loro per i mafiosi. Anche questo è un modo come un altro per mettere da parte i problemi e non discuterli. Comunque, tornando però all'argomento, io credo che manchi da parte della politica la vera volontà di essere sempre e comunque precisa e trasparente. Cosa vuol dire? Se tu fai una legge, deve essere chiara. La legge non può dire tu puoi fare, puoi fare questo, tu devi fare questo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho un appalto e posso scegliere, posso scegliere, vuol dire che dai un potere discrezionale a funzionari, a dirigenti, a chi gestisce quella cosa, in cui puoi anche entrare e insinuarsi il metodo mafioso. Perché? Perché se tu dai la possibilità di insinuazione della mafia o di chi vuole fare le cose in modo malfatto, è perché c'è una facoltà e non un dovere. Se ci fossero i doveri, cioè o è bianco o è nero, ma se tu puoi scegliere, allora è logico che entra il fattore umano. Perché ci sono molti, questo lo dobbiamo dire, ci sono molte persone che sono corruttibili. L'essere umano è debole, però c'è chi magari come Giovanni Falcone non ci sarebbe mai piegato, ma ci sono tanti altri che non sono i Giovanni Falcone che si piegherebbero e comunque starebbero a regole di mercato che sono basate sulla corruzione. Bene. Scusate, noi ci troviamo sempre al discorso trattativa Stato-mafia. No, no, io vorrei approfondire questo concetto Stato-mafia. Allora, alla fine un maumu generale, un colonnello, si avvicinano ai soliti mafiosi e cercano di trattare quei mafiosi. Allora, scusate, ho qualcosa di analogo, Beh, non è proprio solamente il generale, perché si parlava del... Mancino era l'ex Presidente del Senato, amico del Presidente della Repubblica e quindi discutivano di questa cosa. Bene, comunque, si muovono delle figure importanti e significative dello Stato, chiunque queste siano, per andare... Non sto dicendo che lo facevano, né discutevano. Sì, sì, per andare a contattare i mafiosi e dicendo, state buoni. Giusto? Ecco. Allora, scusate, lo Stato italiano che cos'è? Ha a disposizione quanti carabinieri? Ha un esercito, a quell'epoca c'era ancora l'esercito, ha a disposizione tutte le forze possibili, immaginabili, e la Sicilia, non riescono a difendere Falcone, e devono andare a trattare. No? Ho capito. Allora, io vado a trattare, se so che sono ricattabile. Allora, se io se io aggredisco, questi tirano fuori i pizzini e dicono, ma tu, così, 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 qui abbiamo preso, lì abbiamo dato, perché noi ricicliamo i soldi della cassa del mezzogiorno, lo vogliamo dire, i giovani non sanno che cos'era, ma era una delle casse forti del sud, dove si metteva dentro le mani e usciva di tutto. C'era anche una barzelletta che a un certo punto hanno preso un guru indiano, e l'hanno messo in una cassa per 40 giorni, e quando è uscito era grasso invece di essere magro e deperito, perché era la cassa del mezzogiorno. Questo si raccontava a quell'epoca, no? Allora, e la mafia serviva a questa cosa qua, perché ritornava ai partiti una parte di queste prebende, e è chiaro che devo andare a parlare, perché se no mi faccio male. Quando c'è il trattativo di Stato-mafia, non è che lo Stato si abbassa, va in ginocchio e cerca di salvare l'Italia, se no questi mettono le bombe. Non è affatto vero, devono pararsi i culo i politici e siamo al massimo livello. Bene, allora, andiamo in pubblicità, perché qua il tempo scappa, ma quando rientriamo parleremo allora di questo viaggio di Donald Trump, il primo viaggio istituzionale, chiamiamolo così, all'estero e insomma vediamo com'è andata poi oggi anche al G7 di Taormina, tra poco.